Una squadra vincente nasce dalle caratteristiche indiscosse di ogni suo singolo giocatore. La passione, il cuore, la forza, ma soprattutto tanta e ancora tanta strategia. Eh sì, perché le vere sfide le si riconosce dallo sguardo, o da quanto ognuno di noi riesca a mettersi in gioco. Perché è di gioco che stiamo parlando. Quindi tieni d'occhio quello che fai. Sarà il calcio d'inizio per inseguire i tuoi sogni. Ti impegnerai ogni giorno. Ci crederai ogni volta. E tutto questo per un unico obiettivo. Arrivare a segno. Calma, calma. A volte andrà bene. E in altre ti ritroverai a terra. Ma ricorda, è il cuore che vince. Da oggi scende in campo con gli insuperabili Lactalis. Per chi da soli iniziamo un percorso. Ma solo insieme andiamo lontano. Ma solo insuperabili Lactalis